Ciao, io sono Miss Biancoala e questo è il mio canale dell'illuminazione, dove ti insegni ad applicare la legge di attrazione, e non solo quella, in maniera corretta ed efficace nella tua vita. Sono anche su Instagram e su Facebook, che sono due canali qua di avanti a supporto di questo qui di YouTube. E trovi link di riferimento cliccando qui sotto nel box informazioni. Specialmente su Instagram ogni giorno posto le storie di successo del mio Team Koala, ha inoltre frasi mantra, meditazioni, riflessioni, un sacco di materiale aggiuntivo. Trovi link di riferimento cliccando qui sotto nel box informazioni. Troverai link del mio blog, dei canali social e anche del mio servizio di consulenza. Il mio servizio di consulenza, un servizio mirato e dedicato per individuare e rimuovere tutto ciò che si frappone fra te e quello che intendi manifestare. Cosa, persona, evento, circostanze. In questo momento è un prezzo speciale per un breve periodo. Trovi link di riferimento dei miei social, del mio blog e dei servizi di consulenza cliccando qui sotto nel box informazioni. E ora passiamo al video della settimana. pace, amore ed energia. Ed eccoci qui in un nuovo video. Voglio fare un chiarimento perché il buttafuori energetico mi ha riportato alcuni commenti che hanno scritto, cioè non me li ha fatti leggere però me li ha riportati, su due questioni che penso forse di aver spiegato su Instagram, però li spiego anche qua così. Sapete? Uno, perché non hai grandi numeri? Perché non manifesti grandi numeri? Il mio canale è per pochi, è un oasi. Sì, è un'elite? Yes. Sì, lo è. Perché quello che insegno è per gente avanzata. Gente che non solo si è risvegliata, ma ha voglia di sapere roba avanzata. Quindi sì, è per pochi. E poi è per pochi per un grande fattore, purtroppo. Che in questo momento storico purtroppo ci stanno più zombie che risvegliati. Quindi, regà, è così. E soprattutto non solo ci stanno più zombie che risvegliati. Tanta gente, a certe periodi, ne va a sapere perché vi dico una cosa, regà, e per me è stato difficile digerirlo. Quando apprendi che tutta merda, a merda, te la sei creata te attraverso i tuoi credo, eh, regà, soprattutto se venite come me da un passato di violenza e abusi, fin da piccola, fin da appena nata, non è facile digerirlo, regà. No. E non sapete i litigi, gli urli e strelli con l'universo, con me, cioè, le maledizioni, cioè, non è. Quindi io capisco che quello che io offro, qui il calice che offro, è un bicchiere di veleno, che poi mi libera, però è un bicchiere di veleno a mano laggiù, perché fu per me uguale. Fu per me uguale. Fu per me uguale. Capire che i disastri che erano successi erano stati causati per me, perché c'era dietro un disegno di vino? Sì, mi... Però, regà, cioè, capire che io ero colei che creava questa realtà, nel bene o nel male, eh no. È stato un calice di veleno, proprio un bel bicchierone di cicuta, da mannaggiù. Non è stato proprio piacevole, per niente. Quindi io capisco che quello che insegna sto canale è roba dura da mannaggiù, tosta. Non è facile. Quindi ecco perché è per pochi. Questo è un oasi, un'elite. Io dico sempre noi che siamo una piccola tribù di illuminati, e a me mi va bene così, anche perché, onestamente, gestire grandi numeri non è mai stato nel mio coso. Cioè, e poi, anche volessi, adesso mi metto a manifestare purtroppo, purtroppo, purtroppo. In questo momento storico ci sono ancora troppi, troppi zombie. Quindi anche volessi, eh, questo è. Questo è troppo. Qui se stiamo a da fa' per cercare di svegliare i coscienze delle persone. Ma questo è. Quindi, regà, fine. Poi, seconda cosa, non mi andate a paragonare all'artricoach. Io lo ripeto ancora per l'ennesima volta. Io non so l'artricoach, non me ne frega un cazzo dell'artricoach, quello che dicono l'artricoach. Non me ne importa. Ognuno ha sé, ognuno insegna quello che sa, quello che vuole, quello che crede. Tra l'allero, tra l'allà. Io non so l'artricoach. Sono unica. Così come ogni persona è unica. Oh, frena. No, perché io so chissà che. No, no. Io so, boom, fine. Quindi non mi dite, eh, ma l'artricoach, l'artricoach, quello che è, non me ne importa niente quello che dicono, non me importa niente quello che fanno, non me ne importa niente di quello che affermano, non me ne importa niente. Fine. Non me ne frega un cazzo. Fine. Quella è la loro verità. Qui dico queste cose. Vi piace? That's it. Non vi piace? Ma benissimo. Pavoloso. Fine. Ci stanno altri coach. Appunto, gli altri. Punto. Io sono io. Punto. Quindi chiarisco anche questo. Secondo voi, non venire a di? Ma perché, perché tu non manifesti un lifestyle da nababbo? Uno. Cioè, non è che sta nel mio quotidiano. Quindi. Due. Ognuno ha certe sue preferenze. Magari a me un lifestyle da nababbo? Cioè, mille e mille miliardi alla cosa, alla Jennifer Lopez, a me non mi interessa. Potrebbe anche esserci quello. Secondo voi, quando arrivi a certe verità, sei al di sopra di questo, no? Perché i soldi non... No, no. Sei al di sopra nel senso che sai che può manifestare qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Una delle cose in cui io sono specializzata, mi sono specializzata, è manifestare il lusso, roba di lusso, a due spicci. No, regà. Roba di lusso e due spicci. Andate sul mio Instagram e guardate le ultime vacanze a me sono fatte, guardate i posti dove sono stata e l'ho manifestata a due spicci. Resort a 5 stelle e due spicci? Due spicci. Due spicci. Questo è una... Ci ho lavorato per anni. Per anni? Per anni? Non facevo altro che di? Io voglio manifestare il lusso, ma due spicci. Il lusso e due spicci. Cioè, voglio il mio come diceva, sì, vabbè. Cioè, se è lusso un po' è stato spicci. E io è così. Io lo ricevo il regalo, la maggior parte delle volte ricevo il regalo? Cose lussuose? Oppure le manifesto veramente che mi... Ma rimango anch'io sbalordita. Rimango. Rimango anch'io sbalordita. Ma di? Ma che davvero? Cioè, a due spicci. Spi-ci. Il telefonino dove sto registra, l'ho raccontato in un video, è un telefonino che all'epoca, perché ormai questo è del 2018 Robert Gianni, costava 6-700 euro. Io l'ho manifestato a 99 euro. 99 secche. Secche, manco 100. 99. Un telefonino da quasi 1000 euro. 99 euro. De un marchio famoso. 99 euro. Fine. Quindi io mi sono specializzata in questo. Quindi non venite ma di... Perché non manifesti una vita anababbo? Voi non sapete niente. Quindi magari sto manifestando una vita anababbo, ma a due spicci. Guardate il maestro Gesù. Il maestro Gesù, regà, ma che l'ha malaurato un giorno? Nope. Eppure, regà, veniva trattato mai l'edurè? Non è... Ma guardate Buddha. Andavano carzati, vestiti e magnati. Cioè, un tetto sopra la testa quando volevano i loro passaggi, quando gli eserciano... Cioè, punto. Ovunque... Ovunque... Ma è stato Gesù stesso l'ha detto ai discepoli. Ma hanno un giorno scarzi e cabbi sacciavota? Cioè, oh. Eppure non lavorava nessuno. Tutta quella gente, quasi... Cosa? Quel gruppo di gente folto? Tra lui e i discepoli. Hanno mal... Ma qualcuno lavorava? Onestamente, non ce ne avessero bisogno. Perché quando voleva una cosa... Sapevano... Quando tu sai del tuo potere, non te ne frega niente. Manifesti quello che vuoi. Poi, se tu hai intenzione di manifestare una vita aggiatissima, la Jennifer Lopez, molti tirano sempre fuori e staporaccia. Però, insomma, 1000-1000 euro. Buon per te. Magari per me invece no. Cioè, andate a dirla una che in diversi video, ho detto che a me mi piacerebbe andare a ritirare su mezzo ai frati. A fare l'erbette di sanucce nell'assoluto silenzio. Cioè, di che stiamo a parlare, gà? Cioè, onestamente. E vi dico una cosa, che l'ho spiegato in un altro video. Io ho manifestato di essere per diversi anni a stretto, stretto contatto con le persone più ricche di questa faccia della Terra e nobili. E raga, quello che ho visto onestamente non è che mi fa... Mi ha entusiasmato. Perché prima di manifestare, non mi ha chiesto all'universo di vivere in... cosa come si dice? Terza persona? come era vivere da così tanti sordi che non sai che cazzo faccia. Gli potresti pure bruciare e saresti ancora ricco. Saresti. Cioè, raga, ho visto gioielli che in confronto... Cioè, padelle. Padelle. Veramente, raga. Sordi che... non so, neanche, in questa vita per dieci generazioni che cosa ci potevano fare. E chi non ne so... Raga, non ne sono rimasta affascinata. Punto. Cioè, punto. Quindi ognuno c'ha i suoi cosi. C'è chi può manifestare una vita a una babbo e chi no. Fine. Onestamente non c'è niente di male, raga, a manifestare denaro o frenare. Oh, guardate la chiesa, raga. Pratica, pratica. Eppure sono più ricchi del coso, raga. Accumono ricchezza millenni da quando sono stati fondati. Onestamente non c'è niente di male. Quindi non c'è la questione. Quando torni per correggisù, Gesù ne diceva noi soldi, no. Se c'era da lavarlo con l'olio profumato non è che si diceva, no, raga, non l'olio profumato da tanti sordi, è quello cheap. No, ma risparmio, eh, raga. A risparmio, no. Se si faceva lavarlo con l'olio profumato, punto. Perché la ricchezza fa parte, voi questo non capite, che la ricchezza fa parte di questo universo. Dio, l'universo è ricco. Basta che, andate, avete in campo del cazzo del prato quanti fili di erba c'ha. Tutta ricchezza, ricchezza di diversità, ricchezza abbondanza. Guardate, fate una cosa, una cosa che ho combattuto tanto per tanti anni, era come io potessi essere povera in un universo che era ricco, basta che arsi l'occhio e guardi la porta celeste. Come poteva essere? Perché c'erano dei credo negativi. Come poteva essere che io ero ridotta dove mi venne tra poco pure le mutanne per pagarmi le bollette? O doveva andare solo in mercato quando c'erano i sordi e fa cerni tra i scaffali quello che potevo e rimette a posto quello che potevo via? Perché avevo dei credo negativi su cui poi ho lavorato, ok? Quindi, per chiude, uno, non so l'arte di coach, due, non ho intenzione di manifestare neanche potrei purtroppo, numeri e così e non manco mi interessa. Tre, onestamente non ho intenzione, perché non ostentivi, ma perché te ostentavi? Io non ostento perché io sono, punto, io incarno, l'universo, come ognuno di voi a livello di come vi siete risvegliati, quindi io non ho bisogno di ostentare, Gesù non ostentava, non ostentava, cioè, magari eravamo lì o potevamo vedere se stava a camminare a scarso con i sandali di cuoio rifiniti a perfezione, cioè, comunque, nessuno ha mai trovato morto secco in un angolo perché ne aveva magnato, magnava, garzato, vestito, o stesso diceva cose, ma, cioè, voi perché non leggete dire il cazzo, il Vangelo, porca migno, cioè, regà, me fate incazzare, il Vangelo, sentite, non preoccuparsi, questo siamo a Matteo, Matteo, no, regà, Matteo, 625, no, regà, sì, 625, non preoccuparsi, perciò vi dico, per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete, la vita forse non vale più del cibo, il corpo più del vestito, guardate gli uccelli del cielo, questa è una cosa che io osservavo, una cifra, non seminano, non miedono, non ammassano, nei granai, eppure il padre vostro celeste li nutre, non contate voi forse più di loro, e chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita, e perché vi affannate per il vestito, osservate come crescono i gili del campo, non lavora in un filo, quello che vi sta di è, ma perché state lì a preoccupate, più vi preoccupate, più create negatività, quando invece dovete solo affermare, io sono questo, che è l'universo in ricchezza, allora io sono in automatico questo, non c'è sta ancora nel mio 3D, è perché evidentemente sono utili dei credo negativi, sto da retta al mio eco, che mi dice che sono povero, eppure io vi dico, che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro, ora se Dio veste così l'erba, del campo, che oggi c'è, e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede si incazzava Gesù, comunque quando mi dicono, Gesù è no, andrei per l'acce, no perché no, perché Gesù non si incazzava, vabbè, non affannatevi dunque, dicendo cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo, vostra di, ma smettete di preoccupare, più vi preoccupate, più attraverete quello che non volete, di tutte queste cose, si preoccupano i pagani, i pagani volavano dei zombie, come ve lo dico, il padre vostro celeste, infatti sa che avete bisogno, che ne avete bisogno, ce lo sa, l'universo ce lo sa, ancora prima voi parlate, ce lo sa perché vive in voi, quindi sa perfettamente quello che avete bisogno, è che voi fate una resistenza senza domani, perché darete la scurta appunto all'ego, cercate prima il regno di Dio, e la sua giustizia, che è dentro di voi regà, cercate prima il potere che è dentro di voi, quello che io insegno intorno a questo canale, e tutte queste cose, vi saranno date in aggiunta, la giustizia che vuol dire, scardinare i vostri credi, datevi giustizia, invece darete all'ego, volete quello che desiderate, dovete lavorare su voi stessi, c'è stato quasi 400 video su questo canale, su questo, non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini, a ciascun giorno basta la sua pena, fine, io non so come poterdi più chiaro di questo, come poterlo essere, quindi non vi state a preoccupare, fai i sordi, fai i sordi, perché non c'è una vita, una babbo, perché non ostenti, arricchiavo sapete che il vero ricco non ostenta, all'ora, e con questo passiamo a un'altra cosa, di cui desideravo parlarvi, desideravo parlarvi, io ho accennato allo scorso video, la questione sui pensieri ossessivi, complessivi, quando uno ha questi pensieri, oddio, cioè quando una volta che voi imparate a manifestare, cioè comprendete la questione che i miei credi manifestano, una delle domande che mi fate, ma pure le paure manifestano sì, perché le paure vengono generate da un credo negativo, cioè ho paura che lui mi lascia, perché ho il credo che prima o poi lui mi accannerà, mi lascerà, ho paura che se mangio sto cioccolatino, mi viene su un culo che non finisce mai come la tavola rotonda di Re Artù, perché voi credete che appunto mangiando cioccolatino, diventerete la tavola rotonda di Re Artù, capite, quindi la paura è praticamente generata dai credo, le paure che avete sono generate da dei credo, quindi è molto facile, andate a rintracciarli e dite che cazzo avete paura, andate a rintracciarli dentro, se ho paura che lui o lei mi mette senza andovani, è perché ho delle mie insicurezze, dei miei credo negativi, che mi fanno credere che prima o poi lui o lei mi mette come fossi in coso, come fossi diventato uno stambecco, ora, una cosa che io ho sofferto tantissimo è appunto la questione che una volta che ho appreso, che io creavo, se mi credo sono entrata in palle, loop, a dirmi, oh madò, oh madò, oh madò, oh madò, mui manifesto, mui manifesto, mui manifesto, siccome io ero estremamente zombie, zombificata, zombificata, credevo molto alle questioni negative, andavo molto retta al mio ego, io manifestavo in 4 e 4 8 sempre cose negative, cioè prima di te le cose negative c'avevano tipo autostrada, wuuu, cioè capito, è come tipo il telepass, così, mentre le cose positive erano tipo nonno un carozzo, sto arrivando, cioè capito, cioè realmente era così, realmente, realmente, le cose negative mi si manifestano, manco mi facevo un tempo appena, e boom, me le ritrovavo, le cose positive erano, lentamente, questo perché avevo dei credo che mi portavano appunto a dire, oh mio dio, era un circolo vizioso, pensavo negativo, manifestavo negativo, vedi, manifesto sempre negativo, facilmente, positivamente, invece ci metto tantissimo, quindi questo era il mio mantra quotidiano, era, oddio, le cose negative, non mi accorgevo che io praticamente manifestavo, cioè mi nutrivo di questo pane quotidiano, dove il negativo così, e il positivo è un veglio, madonna mia, ci mette a 3.000 anni, cioè, realmente, che cazzo faccio, così, una delle cose che ho, mi sono cominciato a, ho cominciato a fare è, sono andata a vedere, ho detto, succede questo perché io ho questi credo, che c'ho da decenni, che ha già da sempre tutto, così, ok, quindi sono andata a ribartarli, quando avevo un pensiero negativo, mi scattava subito la cosa, oh mio Dio, ho pensato, ora si manifesta, perché manifesto subito in negativo, no, dovete cominciare di questo, no, d'ora in avanti, d'ora in avanti, questa fase mantra, che mi ripeto, d'ora in avanti, manifesto solo, tutto ciò che mi fa piacere, e mi piace, o cose positive, punto, no, fine, fine, d'ora in avanti, manifesto solo cose, manifesto solo cose, che mi piacino, fine, fine, ora, ci vorrà del tempo, raga, sta frase mantra, vedo, 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 nel corso del tempo, io non so quanto ci metterete, a fossilizzare, ma sì, fossilizzare, a concretizzare, e nel letter D, questo, io ci ho messo parecchi mesi, molti mesi di, appunto, ripetemi questo, non c'è un numero magico, non c'è un momento magico, non c'è, come cazzo volete voi, basta che voi lo dite, appena sentite che va arrivare il pensiero intrusivo, ok, il pensiero intrusivo è bloccato e di no, tanto non succede perché vi state subito la paura di, oddio non lo so per manifestare, no, 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 non succede perché io manifesto, dovete parlare in presente, io manifesto soltanto tutto quello che mi piace, io manifesto solo tutto quello che mi piace, mi fa sta bene, ci sono queste cose qua, questo dovete imparare di, dovete imparare di questo, all'inizio il vostro eco vi dirà sì, l'allero, poi se il vostro 3D succede, che si manifesta qualcosa negativo, gli devi dire no, questa volta è andata così, vabbè, a per certe non succede, 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 solo cosa, dovete imparare di questo, perché mi manifesta solo le cose che mi piacciono, le cose positive, le cose che mi fanno sta bene, e così via, cioè dovete di questo, dovete di, ok, regà, sapete perfettamente che si tratta di, di, mi è una parola, in italiano, training, che in italiano è, come cazzo ammetto, trainare la vostra mente, dominare la vostra mente, no, come si fa un training, questo è il problema di, quando si è più abituata in inglese, oh, non mi viene una parola, istruire la vostra mente, esercitare la vostra mente, a pensare in positivo, che solo quello manifesta, cioè la dovete istruire, la dovete condurre, è come dovete, univè, una mano qua, namo su, che ho mai la parola, cioè, mi è solo training, dovete, mi è, trainare la vostra mente, ma non mi viene, ora qua sotto qualcuno mi scriverà la parola, se l'universo non me la fa venire in mente, dovete, dovete comunque sia insegnare alla vostra mente, un certo tipo di percorso, ok, voi fino adesso siete andati, praticamente su autostrada del negativo, adesso voi dovete via autostrada del positivo, perché esiste pure autostrada del positivo, ok, esiste pure autostrada del positivo, quindi voi vi dovete immettere, e questa frase mantra, questa frase mantra, vi aiuta di, cioè, da ora in poi, da adesso in poi, io manifesto solo il positivo, manifesto solo che mi fa piacere, e dovete insistere, pure quando non succede, voi dovete insistere, il 3D ci mette un pochettino a trasformarsi, soprattutto se avete dei credo antichi, i miei credo erano vecchissimi, li trasportavo fin da quando ero ragazzina, più i credo sono antichi, più raga dovete insistere, ci vuole tempo, cioè, please, 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 ci vuole tempo, raga, è come una macchia ancrostata, se c'è una macchia ancrostata, 5 mila anni, raga, ci vuole più tempo, non è che, ah ecco, una passadina, e dei fazzoletti non bagnare, già se è torta, ci vuole un po' più tempo, per le macchie più ostinate, ok, e questo è quanto, questa è la tecnica, veramente che a me ha dato la svolta, ha dato la svolta, perché io ero in un loop, raga, di pensieri ossessivi, compulsivi, questi pensieri ossessivi, che appunto poi mi portavano a manifestare, quello che cazzo non volevo, quello che cazzo non volevo, me lo portavano a manifestare, me lo portavano, e quando succede qualche cosa, riprendetevi velocemente, di vabbè, stavolta è successo, me ne frega un cazzo, boom, mi ho buttato le spalle, a presto a volte non succede, perché io manifesto solo cose che mi fanno piacere, manifesto solo le cose che mi fanno piacere, cioè dovete eliminare dalla vostra mente proprio, cioè sono capaci a manifestare roba negativa, sono capaci a manifestare roba negativa, non so, cioè fino adesso voi vi ritenete praticamente, che avete il dottorato in manifestazione di cose negative, no, adesso ho il dottorato che manifesto cose positive, cioè proprio, cioè più dottorati, in manifestazione di roba positiva, vi dovete portare a questo, guardate se cazzo mi vedete una parola da training, vabbè, veramente, allenare forse, allenare la vostra mente, potrebbe essere allenare la vostra mente, perché training è quello, allenare la vostra mente, wow, alleluia, 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 grazie Uni, questo è quanto, penso che vi ho detto tutto, bright, oggi è nuvoloso, prima è uscito il sole, e poi sono venute le nuove, sono tenate, e niente, e niente, vi aspetto qui con un prossimo video, mettetevi un pollice in su, mi fa un sacco di piacere, più pollice in su, più espandiamo il video, a altre persone, che hanno bisogno di, conoscere queste verità, e iscrivete al canale, del team koala, team vincente, ma ne vi siamo tutto il cazzo, che ci pare e ci piace, e perché ci siamo anche rotti il cazzo, di essere dei perdenti, basta, troppi decenni a essere perdenti, adesso, no more, no more, e come ripeto sempre, perché, no under my watch, no under my watch, come dicono in, nel gergo militare, e ci sono molte cose, via via del mio passato, delle recenti, delle recenti, delle vite passate, avevo a che fare, con la questione militare, però questa è un'altra cosa, per un'altra storia, per un altro giorno, e niente, pace a mole, ed energia, bisous.